Parola di Dio, fratello, sai da dove deriva la parola? La parola? Da Dio? Sempre sia lodato, no? No, idiota! E passiamo a ringraziare tutti quanti che... Perché? Perché? Perché vi ringrazio? Perché? Sono molto felice di avervi tutti qui vicino a me e siate sempre disponibili per gli altri. Grazie a tutti!